Musica Lunghe code oggi sulla SS 121 in territorio di Mister Bianco alla base dei disagi la riparazione di un guardrail. Dopi turni alla Don Bosco di Santa Maria di Ligodia il disagio dovrebbe durare però solo pochi giorni. Istituto Sturzo di Biancavilla verso la normalità il sindaco Bonanno ha presentato i lavori in una conferenza stampa. Martedì 10 settembre 2019 buonasera dalla redazione di V24. I carabinieri della stazione di Adrano in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania hanno arrestato il 31enne Adranita Salvatore Boscarino per violazione degli obblighi imposti. L'uomo che in sostituzione della pena detentiva già fruiva del più favorevole affidamento in prova ai servizi sociali era stato più volte colto dai carabinieri a spasso per il centro etneo in orari a lui non consentiti e quindi colto in palese violazione delle misure stabilite dal Tribunale. L'autorità giudiziaria ha disposto che Boscarino l'arresto e il trasferimento nel carcere in Catanese di Piazza Lanza. Delle lunghe code si sono registrate nella mattinata di oggi nel tratto di strada compreso tra Valcorrente e Mister Bianco sulla strada statale 121 alla base del disagio la manutenzione di un guardrail. Esiste una lotta tra bene e male, tra giusto e sbagliato e nel Catanese anche quella tra i pendolari e gli estenuanti lavori che in maniera ciclica si presentano sulla strada statale 121 realizzati in un orario di punta. Tanti automobilisti sono rimasti bloccati questa mattina a partire dallo svingolo della zona industriale di Piano Tavola sulla corsia che da Paternò conduce a Catania a causa della sostituzione di pochi metri di guardrail sul margine laterale della corsia poco dopo l'ex cavalcavia Graci. Una vera e propria odissea, quella che con cadenza periodica, sono costretti a vivere lavoratori e studenti su una trafficatissima arteria come quella in questione che collega i paesi etnei con Catania. Pesanti incorghi si sono registrati anche sulle arterie parallele della statale come quella che da Motta Sant'Anastasia conduce alla statale e quella all'interno dei centri abitati di Piano Tavola e Mister Bianco. Tanti automobilisti si chiedono perché i lavori non vengono effettuati in orari notturni o lontano dalle ore di punta? Una domanda certamente lecita che quasi mai trova risposta. A farne le spese sono comunque sempre i pendolari che accumulano ritardi su ritardi per recarsi verso i luoghi di lavoro e di studio. E' assurdo, non capisco nel disagio che creano, commenta qualcuno inferocito sui social. La polizia di Mister Bianco ha chiarito in tarda mattinata che la manutenzione risultava essere già programmata e contemporaneamente l'ANAS ha smentito di aver inviato i propri operai per la manutenzione, confermando che si trattasse di un intervento a carico del comune. Dopo tre anni come dirigente del commissariato di Adrano, il vicequestore Giuseppe Maria Emidio lascia l'incarico per ricoprire quello di responsabile della DIA di Catanzaro. Al suo posto si insedia oggi il nuovo dirigente del commissariato di Adrano, il vicequestore della Polizia di Stato Paolo Leone. Nato a Catania nel 64 ed entrato in polizia nell'85 con la qualifica di agente ausiliario, è stato assegnato a Palermo e successivamente presso il nucleo prevenzione crimine Sicilia orientale. Transitato nel ruolo degli ispettori, ha prestato servizio presso la sezione narcotici della squadra mobile di Catania e dall'ufficio antimafia, sempre della questura di Catania. Leone ha ricoperto il ruolo di vice dirigente del reparto mobile di Reggio Calabria, diretto il reparto prevenzione crimine Sicilia orientale di Catania e ha coordinato i reparti prevenzione crimine aggregati per il vertice G7 di Taormina passando alla direzione del reparto prevenzione crimine Piemonte con sede a Torino. Al nuovo dirigente giunge l'augurio di buon lavoro appunto del questore Mario della Cioppa e di tutti i colleghi della questura. Avvio di anno scolastico travagliato a Santa Maria di Licodia dove appunto gli studenti di alcune classi della primaria dell'Istituto Comprensivo Don Bosco saranno costretti appunto a seguire le lezioni al pomeriggio in una doppia turnazione con gli alunni della mattina. Nel servizio di Luca Crispi le motivazioni di tale decisione. Prenderà il via domani a Santa Maria di Licodia, l'anno scolastico per tanti studenti del Comprensivo Don Bosco. Ma se l'avvio rappresenta sempre un momento difficile per i piccoli scolaretti che dovranno abbandonare la spensieratezza dei giochi estivi a favore dell'impegno nello studio, a rendere questo inizio di anno più faticoso e a far storcere il naso a diversi genitori, sono i doppi turni che interesseranno le classi quarta e quinta della scuola primaria. Gli studenti di queste classi, secondo il calendario della Don Bosco inviato ai genitori nel pomeriggio di ieri, dovranno infatti svolgere le lezioni in orario pomeridiano sempre all'interno del plesso centrale di via Solferino. Ritengo che rivolgere l'imposizione ai bambini frequentanti la quarta o quinta classe di dover frequentare le lezioni in orario scolastico pomeridiano sia inaccettabile. Si legge in una PEC che una mamma ha inviato nella serata di ieri al dirigente del Comprensivo. Ad essere contestata dalla mamma anche la tardiva comunicazione da parte dell'istituto scolastico del calendario delle lezioni, è il fatto che la presenza dei turni pomeridiani non è supportata da impedimenti non ripristinabili nel periodo intercorso delle vacanze scolastiche, non trattandosi di calamità naturali. Una situazione momentanea, almeno dal Comune così fanno sapere, che dovrebbe risolversi entro pochi giorni. Sottolineo come i doppi turni, che interesseranno alcune classi di questi primi giorni, non sono frutto di una scelta dell'amministrazione, scrive il primo cittadino licodiese, Salvatore Mastroianni, in un messaggio su Facebook. Di contro, lavoreremo alacramente per poter consegnare nel giro di pochissimo tempo le aule del plesso di via Madonna del Carmelo ed ovviare a questo disagio. Alla base dei turni pomeridiani ci sarebbe la variazione delle classi da utilizzare all'interno del plesso della Sant'Angela Merici. Rispetto agli anni passati, infatti, le aule a disposizione degli studenti della Don Bosco saranno quelli del piano terra e non più quelle dell'ultimo piano. Nell'ex istituto della Compagnia di Sant'Orsola, una volta completati i lavori di adeguamento, dovrebbero infatti essere dirottate le prime e le terze classi della primaria, facendo tornare così la normalità nell'orario scolastico. Secondo indiscrezioni, il ritardo nell'avvio dei lavori alla Sant'Angela Merici sarebbe da ricondurre a una situazione di incertezza sulle aule da assegnare agli studenti della Don Bosco, definitasi solo in questi ultimi giorni. Infatti, era in corso una trattativa economica con l'Istituto Alberghiero, che nel caso in cui non fosse andata in porto, avrebbe portato all'abbandono da parte di quest'ultimo delle aule dell'ex scuola elementare Mazzini di via Regina Margherita, lasciando così lo spazio agli studenti della Don Bosco. Il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha ridistribuito nella giornata di oggi le deleghe dopo il rimpasto degli giorni scorsi che aveva visto entrare in giunta gli assessori Rosanna Natoli e Salvo Tomasello. Rosanna Natoli, già assessore con il sindaco Failla, ha ricevuto le deleghe al personale, contenzioso partecipate, affari generali, servizi demografici ed elettorali. A Salvo Tomasello, invece, sono toccate le attività produttive, sviluppo locale, agricoltura, polizia municipale e viabilità. Il vice sindaco Ezio Mannino si occuperà invece di urbanistica, bilancio, programmazione, tributi, patrimonio e servizi cimiteriali. Francesca Chiri Eleison gestirà i servizi sociali, istruzione, pari opportunità e sanità. A Luigi Gulisano, invece, il sindaco affidato ai settori dei lavori pubblici, ecologia, manutenzioni, pubblica, illuminazione, impianti, società, ambiente e verde pubblico. Vito Rau gestirà lo sport, il turismo, lo spettacolo, la protezione civile, il randagismo e la tutela degli animali. Conferenza stampa questa mattina alla Luigi Sturzo di Biancavilla, tenuta dal sindaco Antonio Bonanno, che ha illustrato le modalità di ritorno alla normalità delle attività scolastiche dopo quasi un anno dalla chiusura dovuta al sisma dell'ormai famoso 6 ottobre. Per noi, Maria Grazia Castro. Si è tenuta questa mattina all'interno dell'Istituto Luigi Sturzo di Biancavilla la conferenza stampa del primo cittadino Antonio Bonanno, all'interno della quale è stato illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della struttura e la tempistica che porterà al ripristino del normale svolgimento delle attività didattiche. Oggi abbiamo fatto l'ennesimo sopralluogo presso la scuola Luigi Sturzo, ma in realtà in questi giorni ne abbiamo fatti diversi in tutte le scuole. Oggi abbiamo voluto dare l'opportunità anche alla stampa di visionare i locali. Nella fattispecie Luigi Sturzo sono quasi pronti, i locali dovrebbero solamente essere puliti e consegnati alla cittadinanza e alla scuola. È passato meno di un anno dal terremoto, quindi oggi siamo certamente soddisfatti, perché se immaginiamo che in pochi mesi siamo riusciti a intercettare i finanziamenti, fare le gare, avviare tutte le procedure, finire i lavori, guardi, sinceramente non pensavamo nemmeno noi stessi di riuscire ad ottenerli in così poco tempo. La promessa era quella di dare una scuola più bella di prima, l'abbiamo visionata certamente più bella, è stata fatta la pittura in tutta la scuola, ma soprattutto la scuola è stata messa in sicurezza, questi lavori sono stati fatti da una ditta locale che ovviamente ha preso a cuore anche la tematica cercando di ridurre nel minor tempo possibile i tempi. Oggi siamo soddisfatti, siamo nel luogo simbolo che poi è stato il luogo che ha creato anche maggiori disagi l'anno scorso e quindi oggi posso rassicurare assolutamente le famiglie che cominceranno l'anno scolastico nella Benedetta Luigi Sturzo. Nel frattempo possiamo anche informare la cittadinanza che i lavori sono partiti anche nelle altre scuole, quindi presso la Marconi e presso la Giovanni Verga, quindi nel giro di qualche settimana e al massimo qualche mese potremmo avere anche quelle scuole pronte. Inaugurato domenica scorsa nell'ex casa Mazzaglia, immobile acquistato anni fa dal comune di Belpasso, il distaccamento della Polizia Municipale a Borrello in piazza Stella Aragona. I locali sono stati benedetti da padre Angelo Lello della parrocchia Maria Santissima della Guardia. Il distaccamento a Borrello rappresenta un importante presidio sul territorio in un'area di interesse nevralgico per il transito automobilistico in entrata e in uscita da Belpasso, ha dichiarato il sindaco Monta. Nell'ex casa Mazzaglia a breve scadenza saranno aperti ulteriori servizi per la cittadinanza. Nei pressi della sede della Polizia Municipale è stato inoltre installato un defibrillatore acquistato grazie alla raccolta fondi organizzata dai giovani del quartiere Borrello, molto attivi e particolarmente attenti ad iniziative di interesse sociale. L'attrezzatura medica potrà essere utilizzata in caso di necessità. L'area è servita appunto dalla rete di video sorveglianza per prevenire eventuali atti vandalici. Festa ed emozioni ieri mattina per l'arrivo in piazza Università di Giuseppe Iacovelli, ovvero il presidente dell'associazione che organizza il tour, il ciclista trapiantato di Rene che sta compiendo in solitaria il Giro della Sicilia per promuovere la cultura per quanto riguarda la donazione degli organi. A Catania Iacovelli è stato ricevuto del presidente della regione Nello Musumeci al quale ha donato una targa. L'iniziativa intitolata Un dono per la vita è promossa dall'Associazione Nazionale Trapiantati di Rene con il coinvolgimento di diversi enti ed istituzioni, fra i quali il Centro Regionale Trapianti della Sicilia ed il Pratocinio della Regione e dell'Asp di Catania. Presente anche l'assessore regionale alla salute e l'avvocato Ruggero Razza che ha indicato in Iacovelli un esempio ed uno stimolo a diffondere sempre di più l'importanza delle donazioni. Ad Acchioglie del ciclista e in piazza Università c'era il direttore generale dell'Asp di Catania, il dottor Maurizio Lanza, accompagnato dal direttore sanitario il dottor Antonino Rapisarda e dal direttore amministrativo dottor Giuseppe Di Bella. Questa era l'ultima notizia. Come sempre potete rivedere tutte le edizioni di V24 Notizie sui siti ivtv.com e dv24.it. Per ogni segnalazione potete contattarci e le capiti che state vedendo in sovraimpressione. Inoltre per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del comprensorio vi ricordiamo di seguire i VTV sui principali canali social. E nel ringraziarvi come sempre per averci seguito vi auguriamo un buon proseguimento di serata sempre qui sui VTV. Grazie a tutti.